No, diciamo che il gelato è la macrofamiglia, no? Tutto è gelato. Un sorbetto è un gelato. Ora, diciamo che poi nella macrofamiglia, nella grande famiglia chiamata di gelato, esiste crema e sorbetto, perché sorbetto è una parola italiana e in portoghese si traduce a sorbetto. Diciamo che, ripeto, il sorbetto è un gelato a base d'acqua, ossia, non ha né lecce né derivato di lecce. E poi, esiste gelato di crema, che è tutto che ha lecce o derivato di lecce. Per esempio, possiamo fare una crema di yogurt, una crema di ovo, una gema di yogurt, crema di ovo, crema di cioccolato. Quando la gente colloca la parola crema, nel comienzo della frase, sarà un sorbetto di base lecce. Io posso fare un sorbetto, un sorbet di cioccolato, un sorbet di pistaccio, un sorbet di avelà, che già, collocando questa parola, io già sai che quegli sorbetto non terrà né lecce né derivato di lecce. Ovviamente, non posso, per esempio, fare un sorbet di yogurt. Perché? Perché il yogurt è un derivato di lecce, ossia, il yogurt sarà sempre un creme. Non posso fare un sorbet di ricotta o di mascarpone, perché sono tutto derivato di lecce. Tutto che è derivato di lecce, sempre sarà creme. Grazie. 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 Grazie.